Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'accensione del mio trattore, del SamXperl 50. Dopo tre mesi di fermo, il trattore in questione è quello là. Dov'è? Eccolo lì. Quello lì, spero lo vedrete. E faremo un'accensione, un piccolo giretto qua nel spiazzale di casa. Quindi non perdiamo altro tempo e fondiamoci sul trattore. Bene ragazzi, sono salito sul trattore. E ora lo accendiamo e facciamo un giretto. Allora, mettiamo tutto a folle, qui c'è tutto a folle, ok. In colpetto dell'acceleratore. Allora, alziamo dietro e facciamo il video. Allora, mettiamo la seconda. E ecco qua, andiamo. E facciamo, andiamo. Allora, facciamo un'altra marcia. Allora, facciamo un'altra marcia. Allora, facciamo un'altra marcia. Come vedete, dopo tre mesi di fermo, si è acceso perfettamente. Ora vado abbastanza, cioè, incrociputando perché il motore è freddo e non vorrei che si rovinassi. Allora, facciamo. Allora, facciamo un'altra marcia. Ora faccio appena l'altra parte e lo mettiamo a posto 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 e detto questo iscrivitemi sul mio canto di Instagram che per caso come sapete ho cambiato accanto e ve lo scrivo qui sotto nella descrizione e niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao